Ciao ragazzi, oggi andiamo a vedere come stampare un disegno di AutoCAD in scala 1 a 1 Se volete fare un qualcosa del genere come ho fatto io, ovvero creare una sega circolare da un medaglio di AutoCAD che poi ho incollato sulla lamiera, ho ritagliato la lamiera e se volete vederlo andate sul primo link del video che ho messo su Facebook Bene, come prima cosa immaginerete che bisogna andare su AutoCAD e adesso creerò un disegno per esempio, perché no, di una sega circolare Ecco qui, ho creato questo dove devo andare un attimo a tagliare questa parte qui poi uso la funzione PolarArray per senzionare questi due poi invio il centro e gli dico che devono essere all'incirca 25 denti della mia sega circolare Benissimo, ho fatto questo, come potete vedere se io vado su Dimension possiamo vedere che comunque ho un diametro di 100 100 cosa? Millimetri? Centimetri? Pollici? Non ha importanza, perché in realtà AutoCAD funziona così ha un'unità che poi andiamo a scegliere dopo in varie interfacce L'interfaccia dove andiamo a scegliere l'unità 6 mm o cm è proprio l'interfaccia di stampa Prima di tutto dobbiamo andare a salvare il nostro progetto che è una cosa molto importante, non è fondamentale ma importante e poi andiamo su Plot, quindi su stampa possiamo andare tramite AutoCAD Print Plot oppure semplicemente cliccando qui su Plot ci si aprirà questa interfaccia dove dobbiamo andare a selezionare la nostra stampante controllare a che porta USB è collegata selezionare la dimensione del nostro foglio di carta io uso dei generici fogli A4 perché ho una stampante che supporta massimo quelli Port to Plot vuol dire che cosa devo andare a stampare ci sono quattro opzioni la prima è il display, cioè tutto quello che vediamo noi quindi proprio in questa schermata in cui ci troviamo prima Extents sono invece, come si può vedere anche da qui vi faccio vedere la differenza è solo quello che siamo andati a disegnare infatti qua ce li troviamo un quadrato proprio perché il mio è il cerchio poi abbiamo Limits che vuol dire fino ai limiti del foglio quindi avrebbe una cosa gigantesca e poi Windows Windows vi farà uscire dall'interfaccia per selezionare proprio tramite lo strumento di selezione normale la nostra finestra che può essere questa per esempio se la volete rifare basta ricliccare qua su Windows e andare a scolpire tra virgolette un'altra volta io mi piace usare molto Extents perché va a effettivamente stampare solo quello che mi serve bene, Plot Offset che vuol dire a che distanza dai margini quindi dal punto 0 del nostro foglio di carta devi andare a stampare a me piace fare Center to Plot ed ecco qui qui abbiamo una piccola anteprima ma se io ho detto che deve essere 10 cm forse questo è troppo grande perché di solito voi vi troverete qui la spunta su Fit to Paper cioè adatta al foglio di carta se io vado a levare la spunta come vedete ho la possibilità di selezionare l'unità che nel mio caso è 1 mm se noi andiamo a mettere 2 mm vuol dire che ogni mm equivale a 2 mm però 1 mm è la mia unità cioè ogni unità per esempio se faccio una linea da 1 sarà corrispondente a 1 mm se invece metto qua l'unità uguale 2 ogni linea da 1 saranno 2 mm come scala vedete qua che abbiamo un valore 1 a 1, 1 a 2, 1 a 4, 1 a 5, 1 a 8, 1 a 10 e così via io vado a mettere 1 a 1 perché è questo che ci serve a noi poi vado su ok e una volta fatto questo mi ritroverò sputato dalla mia stampante un foglio A4 con proprio questo disegno di 100 mm di diametro perfetto per poi incollarlo su un pezzo di legno sagomare il pezzo di legno o si possono fare per molte molte altre applicazioni per esempio se siete un'azienda che fa che ne so maniglie per cassetti allora potreste far vedere i vostri clienti senza dargli la maniglia fargli vedere più o meno quali sono le dimensioni della maniglia in scala 1 a 1 tramite il vostro disegno di AutoCAD per questo video è tutto noi ci vediamo giovedì prossimo con un altro video su questo canale che sta crescendo sempre di più vi ringrazio e basta vi ringrazio e basta